Porta dell'officina apritevi in fretta è ora di aiutare molti veicoli bisognosi per tutti cacciavite a croce meccanici i nostri amici hanno gli pneumatici bucati oh cielo sembra che i veicoli siano stufi di aspettare oh per mille bulloni svitati non ho mai dovuto cambiare tante gomme così velocemente a proposito di gomme veloci questa sembra proprio la nonna il mio piccolo jackie con un grosso lavoro da fare come lo sai il caro e piccolo meccanico blu mi ha avvisata è sbagliato chiedere una mano qualche volta grazie a entrambi felice di aiutare proprio come tu hai sempre aiutato me e tutti gli altri allora ragazzi forza organizziamoci su su nonna giusto meccanici ho avuto un'idea ti sei esercitato jackie ho imparato dalla migliore torna presto a trovarci caro grazie nonna non mi sviterei mai di lavorare con te e non ti sviti neanche di fare battute allora chi ha fame? ti meriti un po' di riposo nonna ma ho qui il tuo cibo preferito la torta di mele della nonna adoro come hai sistemato l'officina mio piccolo jackie sai ai miei tempi era davvero molto diversa grazie nonna ti stai divertendo a farti sistemare miles lo avete davvero tirato a lucido piccolini aiuto aiuto non riesco a fermarmi il signor weasel è nei pasticci nonna aspetta grazie rosso state indietro ragazzi nonna in arrivo signor weasel che cosa sta succedendo? l'acceleratore di Sly è bloccato non riesco più a rallentare l'auto aiuto nonna il tettuccio apribile ce la puoi fare piccolo gioco forza falla fermare scusa scusa sotto all'acceleratore c'è una gomma da masticare ci è mancato davvero poco ciocchezze avevo la situazione sotto controllo non ci sarei mai riuscito senza di te nonna nessun problema piccolo sei stato sveglio sono fiera di te grazie nonna ciao a tutti io sono Geko noi stiamo andando a casa cosa? quella è camioncina cosa succede camioncina? hai perso il tuo ciuccio? non disperarti lo troviamo noi per te su su meccanici prova a cercare tra quei fiori rossi il ciuccio è lì? non sarà dietro a quella siepe verde riesci a vedere se è lì? eppure deve essere qui intorno mi dispiace camioncina non troviamo il tuo ciuccio da nessuna parte blu! ben fatto! lo hai trovato! ecco qui camioncina alla fine è andato tutto bene grazie a tutti voi per l'aiuto ciao! ciao a tutti proveremo un nuovo attrezzo di Trevor verde mi potresti passare? verde? 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 ma dove sei? oh! oh! verde sta innaffiando il suo albero preferito avanti togliti di mezzo ho deciso che costruirò il mio nuovo bar di cibo spazzatura e questo albero si trova in mezzo spostati bidone questo albero è condannato ha! signor Weasel non puoi tagliare l'albero preferito di verde perché no? è solamente uno sciocco albero perché... oh! 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 mele! oh! mi è venuta un'idea Trevor! oh! 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 cosa vorresti fare? vedi, signor Weasel? l'albero è importante produce delle mele succose non serve un bar di cibo spazzatura se c'è questo albero ah! pensi davvero che preferirei mangiare delle inutili mele? che... è delizioso sono fiero di te, verde hai avuto coraggio e hai protetto questo albero ottimo lavoro Blu! Blu! ma dove sei? ciao a tutti oggi lavoriamo all'esterno perché la scala di Fiona è bloccata non si allunga oh! meglio controllare anche le tue gomme Fiona oh! blu! qualcuno mi prende il cric per favore? molto bene rosso prendo la mia chiave inglese per mille robot salterini non preoccuparti rosso ti tireremo giù in qualche modo verde, gialla prendete la coperta ho avuto un'idea rosso quando dico salta giù tu salti giù d'accordo? salta giù blu blu è il momento di essere un eroe pronto blu? 3 2 1 via niente paura li prendiamo noi hai risolto tutto blu evviva sei il nostro supereroe forza supermeccanici ora finiamo la riparazione di Fiona ci rivediamo molto presto ciao cosa? Fiona all'autopompa qual è il problema? la tua manichetta non funziona? diamo subito un'occhiata non preoccuparti Fiona ti aggiustiamo in un baleno prendo la mia chiave inglese migliore che ragazzo Cosa? Venite, meccanici! Datemi una mano, forza! Va tutto bene, Gialla? Beh, direi che il problema ora è risolto! Grazie per essere venuta all'ufficina di Jack, Fiona! Ciao! Ciao a tutti! Io sono Gekko! È un giorno davvero speciale oggi! È la prima visita di camioncina alla nostra officina! Quindi le abbiamo organizzato un extra super speciale benvenuto da Gekko! Ciao, camioncina! Sei un po' nervosa? Va tutto bene! Sei in buone mani! Vero, meccanici? Ma... 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 Oh! Camioncina! Aspetta! oh no abbiamo fatto spaventare camioncina non preoccuparti mamma camion noi la troveremo presto meccanici dobbiamo trovare camioncina oh povera camioncina dove potrebbe essere ti stai nascondendo camioncina è perché sei nervosa eh sai una cosa anch'io lo sono è la tua prima volta all'officina vogliamo che la tua visita sia super speciale scusa se prima ti abbiamo spaventata ma lo prometto ci prenderemo extra super cura di te che ne dici va bene le porte dell'officina si aprono in velocità è ora di aiutare un veicolo in difficoltà ti auguro una felice giornata camioncina sei stata molto coraggiosa non c'è di che camioncina grazie mille per averci fatto visita oggi all'officina di gecko ehi ciao a tutti bentornati all'officina di gecko oggi è una giornata tranquilla stiamo facendo le pulizie di primavera che cosa sarà mai questo rumore bobby il bus non sembri stare bene andiamo facciamo subito un controllo oh cielo bobby non sta per niente bene vediamo se riusciamo a capire cosa non va forse il radiatore ha bisogno d'acqua svelti 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 meccanici no queste non sono stelle aspetta un momento povero bobby ha una perdita d'olio l'olio serve a far girare bene il motore adesso la ripariamo abbiamo trovato il problema niente paura c'è una perdita di olio dalla tubatura verde salderà il danno in pochi istanti con tante scintille molto brillanti e un bel cerottino terrà pulita la tua bua urrà! bel lavoro blu! bel lavoro verde! adesso ti senti meglio bobby? un altro cliente soddisfatto è tutto per oggi ci vediamo la prossima volta all'Officina di Geko ciao! andiamo blu credo sia ora di andare a dormire buonanotte meccanici bobby che cosa fai qui a quest'ora? oh cielo serve una ruota nuova posso pensarci io però dobbiamo fare silenzio oh 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 ci è mancato poco oh no 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 oh 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 ecco fatto bobby buonanotte buonanotte oh 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 beh mi sa che mi sdraio qui un minutino oh 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 per tutti i cacciavetti a croce chi potrebbe essere? oh ciao rana probabilmente non hai notato la mia nuova auto lui è Sylvester o Sly per gli amici ciao Sylvester molto piacere ah scusateci tanto qualcuno ha bisogno d'aiuto Dylan ha problemi al cantiere Edile vi aiutiamo noi arriveremo in men che non si dica oh cielo credo che dovremmo andare comunque su su Tilly carrotrezzi mi chiedo se possiamo aiutare Dylan senza avvicinarci a quell'orrido fango non quel pulsante non quel pulsante sapevo di farcela tira Sly Sly oh oh devo davvero fare tutto da solo oh 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 tirami fuori Sly oh 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 è tutta colpa di questo terribile fango tranquillo ti libereremo presto svelti svelti meccanici forse ti va di far visita al mio autolavaggio Sly e ovviamente puoi venire anche tu signor Weasel no grazie ci vediamo molto presto ciao ciao a tutti oggi Fiona l'autopompa fa la revisione è stata una lunga giornata scusatemi ora che si fa meccanici? meccanici a a Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Adesso riuscirai ad andare dritto. Il tuo asse è tornato come nuovo. Sono felice di aver risolto il tuo problema. È così bello poter aiutare gli amici. Oh, che cosa succede? verde? Giacco, posso parlare con lei? Grazie, Kat! Qualcosa non va, Corazon? Mi daresti una mano con una cosa? Tutto fatto! È pronto per un giro di prova! Aspetta! Niente giro di prova senza verde! A volte neanche io mi sento bene, verde! Ma le emozioni negative passano, come le nuvole! Kat, noi siamo già in campo! Svelta, svelta, Elena, elicottero! Tutto tuo, verde! Io credo in te! Ottimo lavoro, Kat! È stato davvero meraviglioso! Tutto un merito di verde! Ottimo lavoro, verde! Ehi, ciao a tutti! Sono Giacco! È una splendida giornata di sole! Così ho pensato di osservare un po' gli uccellini! Oh, guardate! Ci sono i gemelli! Barry e Carrie! Oh, no! Barry ha avuto un incidente! Presto, meccanici! Andiamo ad aiutarlo! Su, su, Tilly Carroattrezzi! Non preoccuparti, Barry! Ti tiriamo subito fuori da lì! Blu! E adesso facciamo subito un controllo! Ma che strano! Il tuo motore non parte! Ah, Carrie è venuta a incoraggiare Barry! Davvero adorabile! Sapevo che c'era qualcosa che non andava! Questo pesciolino deve essersi incastrato nella marmitta di Barry! Ecco perché il motore non partiva! È bello quando c'è il supporto degli amici! Ci può aiutare a guarire molto più in fretta! Il pesciolino è sano e salvo adesso! I suoi amici dovevano essere molto preoccupati! Beh, tutto è bene quel che finisce bene! Ci vediamo presto! Ciao! Per tutti i cacciadetti a croce, meccanici! La porta dell'officina è incastrata per bene! Sei stata tu, Tilly? Guardate! È Prevor il trattore! Oh, sembra che ti serva il nostro aiuto! Seguimi! Per tutti i bulloni! Ho capito qual è il problema di Trevor! Dobbiamo aggiustare i tuoi ingranaggi! Meccanici, ho bisogno che mi portiate un po' di olio e... La chiave inglese Extra Large di Nonna Geko! Oh! 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 C'è bisogno di muscoli superforti per sollevare questa chiave inglese! Ah, fatto! Così va molto meglio! Per fortuna è stato semplice aggiustarli! Metti in moto, Trevor! Hai bisogno di forti ingranaggi per trainare tutto quel peso! Forse Trevor potrebbe aiutarci con la nostra porta! Forza, tirate, amici! Evviva! Ottimo lavoro di squadra! Ci vediamo presto, Trevor! Ciao!